Giorni caldi per le richieste di ripescaggio per i campionati di competenza. Verso la partecipazione al prossimo torneo di Serie D è il Brindisi. La società biancazzurra, infatti, nelle ultime ore, avrebbe risolto gli ultimi intoppi burocratici, avendo parere positivo dalla Covisod. Ufficialità attesa nella giornata di domani, che potrebbe dare risvolti importanti anche per il futuro del Nardò. Il Sodalizio Granata, dopo il lungo testa a testa con gli organi federali, potrebbe ricevere l'ufficialità su ripescaggio in Serie D, grazie ad un ottimo piazzamento nella graduatoria delle riammissioni. Sospiro di sollievo per la società di Donadei, mentre è ancora da valutare la situazione del Foggia. I rossoneri aspettano un ritorno in Serie C attraverso la porta secondaria, ma non hanno ancora risolto gli intoppi a livello societario. Il sindaco Landella e la tifoseria organizzata chiedono chiarezza, anche se Pintus e Fellca non sono ancora riusciti a sanare le divergenze emerse nelle ultime settimane. Situazioni di venire, come quella del Corato in eccellenza, continua infatti la batteria legale per la missione in Serie D della società Neroverde, dopo il blocco della Lega Nazionale di Lettanti, sulle squadre con il miglior coefficiente dell'ultima Coppa Italia di eccellenza. Una situazione complessa, ma che non ha comunque impedito al Corato di programmare la stagione, con le conferme importanti di Vicedomini, Quarte e Addario, e gli arrivi di Pignataro e Cotello per il reparto avanzato.